Sono entrati per prima in Toghe d'Armellino i rettori delle Università d'Italia, poi presidi delle facoltà di Roma 3, seguiti dal magnifico rettore dell'Ateneo Guido Fabiani. È stato il giorno dell'inaugurazione dell'anno accademico 2009-2010, il diciottesimo dalla fondazione. Nella relazione di apertura, il rettore Fabiani ha posto l'attenzione, tra l'altro, sulla forza attrattiva dell'offerta formativa di Roma 3. Gli iscritti sono aumentati del 12% per un totale di 40.000 studenti. La seconda parte della cerimonia si è arricchita con la presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale ha assistito al conferimento della laurea onoris causa in Scienze Economiche al Lord Robert Schidelsky, biografo ufficiale di Keynes, il padre della moderna macroeconomia. Ci esprima la sua soddisfazione nell'aver ricevuto questa laurea ad onoris causa? Sicuramente è stata un'esperienza decisamente molto bella per me, estremamente commovente, tutta la cerimonia a cui appunto ho potuto assistere e soprattutto mi fa piacere perché il messaggio di Keynes che oggi viene di nuovo riscoperto in un momento in cui credo ce ne sia veramente bisogno. Come può l'economia di Keynes aiutarci ad uscire dalla crisi? Io credo che ci può aiutare in due modi. Innanzitutto cercando di far capire che le politiche di stimolo non devono essere eliminate prima che non si sia effettivamente consolidata la ripresa. E in secondo luogo credo che in qualche modo noi dobbiamo far capire che ci vuole una nuova politica economica e credo che in questo il messaggio di Keynes ci possa aiutare moltissimo. Perché è importante questa laurea ad onoris causa a Schidelsky? Schidelsky è il più grande biografo di Keynes, ha studiato l'opera La vita di Keynes per vent'anni, l'ha ricostruita in maniera magistrale ed è diciamo così un keynesiano dal punto di vista delle idee economiche e c'è una necessità di riportare al centro della politica economica le idee di Keynes allontanandosi dalle quali il mondo è finito poi nella grande crisi che attraversiamo. Al termine della cerimonia il magnifico rettore dell'Università Roma 3 ha lanciato il messaggio inaugurale a tutti gli studenti dell'Ateneo attraverso la nostra tv. Il messaggio è ragazzi studiate e studiate, studiate e usufruite di questa nostra università che è al vostro servizio, diteci le cose che non vanno, protestate quando è giusto protestare, noi siamo qua, stiamo lavorando per fare più bella Roma 3 ma soprattutto per il vostro futuro.